Perché è l'operaio che fa crescere l'industria, è l'operaio che fa diventare odatore di lavoro. Il 6 agosto del 2011 moriva Antonio Filograna lasciando una grande eredità per la città di Casarano e non solo. Un'azienda nata a conduzione familiare dove si producevano inizialmente una dozzina di scarpe a settimana da vendere nei mercati vicini. Oggi di scarpe se ne producono 60.000 al giorno. Antonio Filograna Sergio, suo nipote e figlio, ha deciso di rendere omaggio al grande imprenditore che dal nulla creò un impero chiamato Filanto. Antonio Filograna Sergio, suo nipote e figlio, ha deciso di rendere omaggio al grande imprenditore che dal nulla creò un impero chiamato Filanto con un busto commemorativo collocato all'ingresso della Leoscius, azienda nata dalle genere di quella del padre, con 30 lavoratori e che in 10 anni è cresciuta superando 2.500 dipendenti se si considera l'indotto. Un uomo che ha costruito tanto per questa terra, per il suo Salento, ha fatto tanto per la sua gente e quindi credo che se oggi possiamo raccontare anche una storia in gran parte in merito suo per l'insegnamento, per la lezione di vita che ha dato a tutti quanti noi. Mio zio ha costruito un grande impero negli anni difficili, negli anni anche del boom economico, quindi ha rivalutato una terra. Oggi noi cerchiamo di continuare la sua opera in un ambito diverso ma di prospettiva. Non è semplice fare impresa, però bisogna, come tutte le cose come nella vita, nella logica della vita, combattere, lottare e cercare di emergere in un modo importante, in un modo leale, corretto che possa essere anche riconosciuto in ambiti molto più importanti.